Il bestione non vuole uscire, eh? Ma sarà questo il giorno? Ho sentito grattare Ragazzi? Ragazzi! Charizard! Magari ce n'esce un altro 1, 2, 3, 4, 1, 2 All in! Se è un altro Charizard Io impazzisco Blank Non ci credo! Doppio C'è risorto Oddio Gratta anche qui Non ci credo C'è da non averne trovati Nessuna bustina Ad averli trovati tutti oggi